Ok, Joe, l'ultimo indizio ricevuto dal personaggio misterioso era questa pallina da basket. Chi è che gioca a basket, Joe? Joe, 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 giochiamo? Io forse lo so. Vieni, Poli. Chi è che gioca a basket? Basket, basket. Nessuno gioca a basket. I gormiti giocano a basket. No. Eccoli, Space Jam. Guardate, ci sono tutti i personaggi. E qui c'è Bugs Bunny. Forse questa pallina è proprio sua. Eh sì, questa palla da basket era proprio mia. Bravi. E adesso eccovi un messaggio dal personaggio misterioso. Se volete un altro indizio per capire chi sono, giocate contro Bugs Bunny alle Giolimpiadi. Joe, ma che cosa sono le Giolimpiadi? Sono le Olimpiadi della giocheria. Eh, ma come si gioca? Eh, ti lo spiega il personaggio misterioso. Il primo gioco delle Giolimpiadi è il basket. Avete tre tiri a disposizione. Chi ne fa di più vince un punto. Joe, il basket? Ma dove andiamo a fare il basket qui in negozio? Guarda laggiù, Poli. Ecco il basket. Ma chi l'ha montato? Io. Per il primo gioco delle Olimpiadi utilizziamo il basket con pedana della linea play-out di giocheria. Allora, ecco, questo è il basket giocheria. Ma è bellissimo. Allora, comincio io. Ok, vai Bugs Bunny. No, non l'hai fatto. Cosa ridi? Ok, adesso tocca a me. Punto! Uffa, ora ritocca a me perché abbiamo tre tiri a disposizione. Sono pronto. No! Ok, secondo tiro per me. No! Uffa! Comunque siamo sempre due a uno. No, uno a zero. E manca ancora un tiro per ognuno. Ok, il mio ultimo tiro. Devo per forza farlo. Eh sì, perché se non lo fai ho vinto. No! E vai, Joe, abbiamo vinto il primo punto. E adesso che sfida ci aspetta? Ecco il messaggio del personaggio misterioso. Brava, Poli. Hai vinto il primo punto. Adesso il secondo gioco è il calcio. Avete sempre tre tiri a disposizione. Chi ne fa di più vince. Sei pronto, Bugs Bunny? Ecco la porta. È sempre della giocheria. Per la seconda sfida utilizziamo la porta da calcio della linea play out di giocheria. È bellissimo. Allora, Bugs Bunny, tocca a te. Mettiti qui. Sei pronto? Sì, sono pronto. Sono pronto. Tre, due, uno. Goal! Sì, ok, ma è enorme la porta. Era facile. Ok, adesso tocca a me. Tre, due, uno. No! Uffa! Sei una sciappa. Adesso è il mio secondo tiro. Tre, due, uno. Goal! Siamo due a zero. Siamo due a zero e quindi ho già vinto io. E no, Bugs Bunny, devo ancora tirare io. Ok, questo è il mio secondo tiro. Se sbaglio, ho perso. Mi devo concentrare. Tre, due, uno. No! Uffa! E non sei proprio capace a giocare a calcio. Ma cosa vuoi tu? Ecco il prossimo messaggio. Siete uno ad uno. L'ultima prova è il gioco degli anelli. Chi vince questo, vince tutto. Joe, è l'ultima sfida. Se perdiamo questo non avremo l'indizio. Ci la farai, Poli. Allora, il terzo gioco è il gioco degli anelli. È facilissimo da montare ed è sempre della linea play out della giocheria. Ok, quello è il gioco degli anelli e qui abbiamo cinque anelli. Tocca a te, Bugs Bunny, devi tirare tre anelli. Chi fa più punti vince tutto. Sono prontissimo, Poli. E allora, vado. Uffa! No! No! Uffa! Vai, secondo tiro, Bugs Bunny! Uffa, uffa! Non sono bravo a fare questi lanci. Ero meglio col calcio. Ultimo tiro, Bugs Bunny! No! Uffa, neanche uno! Adesso tocca a me. Devo dirti la verità, io sono la regina del gioco degli anelli. Preparati, Bugs Bunny. Perché hai già perso? E allora, primo lancio. Yeah! Primo punto, primo punto. Secondo lancio. Ops. Terzo lancio, ma Bugs Bunny, che dire. Io ho già vinto, anche se lo lancio a caso. Uffa! Ho vinto, abbiamo vinto. Uffi, uffi, uffi. Adesso, allora, avrete il prossimo indizio del personaggio. Misterioso siete molto, molto vicini a scoprire chi è. Joe, hai visto? Ho vinto! Sono riuscita a fare un tiro e ho vinto. Lo sapevo, Polly, che avresti vinto. Oh, grazie che credi sempre in me, Joe. Però scusa, perché ho giocato io e non tu? Ehm, perché tu sei umana. Cosa c'entra? Bugs Bunny è un giocattolo. Ehm, perché non ne avevo voglia. Ma come non ne avevi voglia? Joe, la prossima volta le Joe Olimpiadi le fai tu, anche perché si chiamano come te, Joe Olimpiadi. E allora, Joe, guarda, è appena arrivato un altro indizio del personaggio misterioso. E Bugs Bunny ci ha detto che siamo molto, molto vicini a scoprire chi è il personaggio misterioso che, ricordiamolo ai bambini, ti ha imprigionato per tantissimo tempo dentro una scatola. E vogliamo capire perché e chi è. Eccovi l'indizio. Sei stata brava a vincere le Joe Olimpiadi. Complimenti. Grazie amico, ma l'indizio? L'indizio è di nuovo questo. Ma questo è Babbo Natale. Ed era il primo indizio che abbiamo trovato, la prima volta. Joe, perché l'indizio è uguale? Il personaggio misterioso ci ha dato lo stesso indizio che abbiamo trovato la prima volta. Non capisco. Che cosa dobbiamo fare? È un peluscetto della Trudy di Babbo Natale. Poli, forse dobbiamo proprio parlare con Babbo Natale. Dobbiamo parlare con Babbo Natale. Babbo Natale è impegnatissimo adesso. Però... Però forse hai ragione. Se abbiamo trovato di nuovo un indizio dove lui è il protagonista... Dobbiamo parlare con Babbo Natale. Gio, 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 gio... Giochiamo! Gio, 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 gio... Gio, gio, gio...